Facciamo incontri quindicinali e mensili con i primari, tutti, ma in questo periodo con quelli dell'area Covid in particolar modo. Ieri abbiamo fatto un incontro in cui abbiamo messo a punto e definito ulteriormente tutte le procedure che noi in azienda mettiamo in essere per i malati Covid ricoverati. Quindi adesso si è ormai organizzato nel profilo di assistenza anche l'erogazione degli anticorpi monoclonali, quindi con tutte le procedure per attivare, per la somministrazione e anche per l'essiero iperimmune.